buongiorno a tutti domenica 10 dicembre sono a caccia di anatre sono le 7 di mattina sta alveggiando in questo momento giornata leggermente ventosa sono in un chiaro privato 6 ettari d'acqua con due capanne stamattina ho messo giù il gioco ho messo giù 7 8 germani più femmine che maschi e 6 al tavole niente adesso cerchiamo di di vedere se qualche anatre gira stamattina non è una giornata proprio ideale però almeno c'è un po di vento nuvolo non so se le nuvole reggano fino fino alla mattina inoltrata non dovrebbero però speriamo che rimanga un po un po coperto e nulla vediamo come va un po' 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 un po Grazie a tutti. 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 Sono le 9 e meno un quarto. Siamo a quota due alzavole. Tutte e due sparate a fermo e la seconda non l'ho ancora recuperata. Ferma là su quel ciuffo di canne e la in mezzo al chiaro. Stanno girando tante alzavole. E' un po' di uccelli più grande. però tante alzavo le attenzione ecco per esempio questa era un'altra alzabola che non so se stia tornando indietro no e ci ho provato ci ho provato perché era abbastanza tiro comunque stanno girando tante alzavole vediamo speriamo vada bene ok sono le 10 e mezza 10 e 40 sto girando quasi più niente adesso aspetto ancora una mezz'oretta qualche fucilata si sente dalle valli qui dietro quindi magari abbiamo la fortuna di avere un ultimo uccello e poi dopo niente dopo vado a recuperare la seconda alzavola presa smonto il gioco e torno verso casa vediamo cosa 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 riusciamo a fare quest'ultima mezz'ora 40 minuti di tempo ok anche la seconda alzavola abbiamo recuperata quindi abbiamo una bella coppia maschi e femmina direi che non ci non ci possiamo lamentare nulla sono le 11 quindi direi che per questa mattinata è tutto e spero che dai video si vedano le immagini vi sono divertito ho ingerato tanti uccelli tanti insomma un buon numero di uccelli siamo riusciti anche a sparare 3 o 4 volte quindi cosa chiedere di più nulla direi che per questo video è tutto noi ci riaggiorniamo al prossimo video